Menuncello, Menuncello è sotto gli occhi di tutti, una delle migliori partite di Menuncello a parer mio, letteralmente inarrestabile, ha preso fiducia dall'essere confermato nel suo ruolo di centro, attentissimo in difesa, insomma Menuncello inarrestabile, una delle poche note positive di questa partita, meno di 7 è difficile da dargli, sarebbe un 8 con una prestazione collettiva diversa, si tiene il 7, però insomma veramente tanta roba.